Sappiamo, carissimi amici, che manca abbastanza poco al finale, al gran finale di Amici edizione 2022 e sono rimasti in realtà proprio in sé nella scuola più famosa della TV e, mentre in rete escono continue indiscrezioni per l'ottava puntata, quella che ci sarà del serale, slittata sappiamo a quanto pare per alcuni casi di Covid di cui abbiamo già discusso in precedenza e in casetta intanto va in scena uno scontro abbastanza tosto. Tutto è iniziato quando i ragazzi stavano sulle gradinate a guardare tranquillamente in TV alcuni video musicali, a un certo punto è partita una canzone, una canzone di Cesare Cremolini che Maddalena Svevi assolutamente adora. Ma non gli altri, evidentemente, soprattutto Wax che ha pensato bene di cambiare canale per poi andarsene. E quando la ballerina ha preso il telecomando, il cantante ha detto di voler vedere il film su Steve Jobs e cambiato ancora canale. Insomma, la lite è scoppiata per il programma da scegliere in TV. E che lite? Deve rompere il caz, non ce la fa, bambino del ca. O, questo è, se una persona sta guardando una cosa lui non frega niente, la reazione di Maddalena Svevi. A te non frega niente di nessuno, ha replicato subito Wax prima di essere interrotto. Noi eravamo interessate. Tu arrivi e mi strappi il telecomando da mano. Wax ha quindi invitato la compagna di Amici 22 a bere una tisana e lei, a me non serve. Se vuoi prenderla tu, per darti una calmatina generale. Tu ti scaldi sempre nella vita. Ma a quel punto il cantante si è infuriato. Non toccare argomenti che non c'entrano niente, come ti permetti di dirti che mi scaldo nella vita. Perché devi giudicarmi? Come ti permetti? Questo non me lo dici a me, non ti permettere. Io so chiedere scusa. Tu no perché sei troppo orgogliosa. Le parole del cantante prima di lasciare la stanza e anche in giardino ha continuato a essere molto nervoso e confrontandosi anche con gli altri allievi di Amici 22. Che, da quanto si è capito, gli danno ragione. Peccato che, come gli ha fatto notare Mattia, le sue reazioni lo facciano passare dalla ragione al torto.